Ciao a tutti merdoni, sono Raibach1999, oggi vorrei parlare di quei bimbi minchia che dicono che Sant'Andreas è meglio di GTA V e a questo punto chiedo aiuto al mio amico Bassotto. Ciao a tutti ragazzi, sono Raibach1999, in questo video vi farò vedere che GTA V è molto superiore a This is Merda Sant'Andreas e This is Love GTA V. Questo gioco, come potete dire GTA V è molto criticato dalla gente che non ci capisce veramente un cazzo, per l'incazzatura uccidiamo questa brutta porca vacca, una vacca di merda, mannaggia la vacca che mannaggia, e dai vi farò vedere la bellezza di questo gioco. Innanzitutto facciamo cazzeggiamo, guarda che greggio di merda, guarda come caloppa, come caloppa eccolo, va a finire sotto il treno, e ora faccio una scurria. Guardate la realtà di questo gioco, andiamo a cazzeggiare dai, cazzeggiamo un po', e chiamiamo subito alla polizia, guardate quanto è bello, quanto... è reale, Sant'Andreas e GTA V. Mannaggia sono morto, mannaggia la vacca, mannaggia la vacca, porca vacca, sembra così, ma sembra così, mettete comunque mi piace, e vi farò altri video su GTA V. ora speriamo che si carica, aspettiamo che si carica, speriamo, perché voglio fare un po' di cazzeggiamento, come i miei fan, comunque... chiamate su Alessio Bartoli di slob, aiuto, vorrei chiamare la polizia... Mannaggia la merda... No, 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 no... oddio, 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 oddio... me saremmo caldo... Mmy saremmo caldo... me saremmo caldo, ma la scoria... Mannaggia! Comunque quanto è reale questo gioco è... eh... guarda, ancora... dai andiamo a cazzeggiare e comunque ragazzi questo gioco è bellissimo guarda come si stende come di fronte a re Bartoli di fronte a Bartoli The King la gente si deve fermare alziamo un po' non scendi che botte le farò ora è voluto per il Gesù comunque è solo una cosa stiamo mangiando la polizia come potete vedere che l'ultimo che fa non scendere